Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video. Cosa andremo a fare oggi? Non lo so. Ve lo dico io. Siamo pronti per le vacanze e ho voluto una cosa che K non voleva. Purtroppo quando si va a fare dei viaggi di coppia con la moto non basta uno zaino e quindi abbiamo preso le borse. Abbiamo preso le borse, le borse per la moto. Quindi facciamo subito un unboxing. Quindi qui abbiamo due borse laterali KTM Power Parts dalla capacità di 16 litri l'una quindi circa tengono 5 kg quindi non potrò portare troppe cose in vacanza. Esatto mi ha anticipato quindi mi raccomando non più di 5 kg. 5 e 5 sono 10 kg di roba. Più o meno il zainetto basterà. Ce l'abbiamo fatto l'anno scorso. Vuol dire che portiamo 10 kg di vestiti per 4 giorni basteranno. Poi cosa dite basteranno 10 kg o no? Scrivetelo nei commenti. Non bastano mai. Ma cosa andremo a fare oltre al unboxing che avete appena visto? Andremo a montarle anzi andrà a montarle quindi vediamo se è veramente facile come scrive il sito KTM montare delle borse laterali su Super Duke. Tocca a me mi ha detto vuoi la bicicletta pedala, vuoi la motocicletta montati le borse. Vuoi la motocicletta accelera. Per montare le borse laterali c'è bisogno di tutto un kit di staffe che è non incluso con le borse quindi KTM fa pagare circa 80-86 euro queste staffe. Vanno prese è obbligatorio e partiremo con quindi il primo montaggio della prima borsa e adesso cercheremo di capire insieme. Parto di K vedere la moto con le borse. Sì esatto no prima cosa da fare rimuovere le viti qua sopra quindi queste due viti qua vanno rimosse quindi ti aiuto se hai già un buon aiuto hai già la chiave sono dure. Non durissime dai. No sinceramente devi dire. No no la rimuoviamo completely? Sì sì mi hanno tirato via. Una. Una. Super morbido. Ok con calma. Sono lungo uguali. E la prima cosa è stata fatta. Adesso procediamo alla seconda. Quindi come da istruzioni vanno prese le boccolette e inserite le viti vedete qua va messa la boccola piccola qua va messa la boccola lunga quindi procediamo mettiamole dentro una alla volta chiaramente. ovviamente. Ci servirà uno più piccolo però. Sì ci servirà un una brugola. Mentre K cerca la brugola giusta intanto io ho già paura di fare le cose senza di lui. Dopo mi picchio. Allora da una clipa all'altra e ho voluto fare io il primo inserimento di boccola e vite perché ragazzi probabilmente è rimasto del freno a filetti già dalla fabbrica ed è veramente duro quindi ho voluto fare io il test ma la seconda boccola. Ci provo io. Provaci. Vi faccio vedere. Adesso non taglio niente. Guardate che duro che è. Secondo te è duro? No. Vai vai. Per il momento no. Sì sì perché è facile dire no. Arriva alla fine. Cioè io ho fatto tutta questa fabbrica e questa va dentro lo dice così. Potevo far prima questa così era meglio. E più di così non va. Allora quando. Se vuoi avere la sicurezza. Ecco adesso è solo da stringere. Lascia lui la responsabilità di rompere la moto. Sembrava più duro. Questo è duro. Devo andare in palestra. Passiamo con il montaggio del terzo supporto che va messo qua sotto vicino alla pedalina. Come vedete qua dietro c'è un piccolo buchetto. Appurato qual è la staffa di destra e qual è quella di sinistra. Casino totale ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scoperto che ci sono due forellini qua dietro non uno quindi andiamo a fare una prova prima di montare la staffa. Con leggiadria Kappa sta inserendo la vite per agevolare il lavoro poi a me che ho le manine più piccole. Sì sì è andata. Sì. Va bene. Pensavo più complicato. Cioè avevo paura questa. Invece la parte più facile forse è questa. Ma non cantiamo vittoria perché le rogni sono sempre dietro l'angolo. Mi 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 mi. Per logica l'unico foro rimanente è questo. Meno male che doveva fare lei. Esatto ti stai facendo tutto tu. Eh vai. Eh sì l'anellino. Sei sicuro che vada esterno e non interno? Non lo so. Lo scopriremo adesso ma in teoria la borsa dovrebbe avere come agli attacchi qua e qua. Anche sotto. Quindi sì. Quindi magicamente apparirà una brugoletta. Sarà quella giusta? Sarà quella giusta. Lo scopriremo. Parto con questa qua o con quelle sotto. Con questa. Sta andando tutto liscio come l'olio. Beh queste sono più morbide. Non vado a stringere subito forte. Io non mi prendo responsabilità. Non stretto alla morte ma neanche morbido. Provo a stringere. Ok non è che facciamo un po' l'altro. Fa fortuna che sono piccola. Sì. Lei è più eseguolata di mai visto che le manine le ha metà della mia. Adesso diamo una stretta finale e anche la staffa è montata in linea di massima. Viti qua non avanzano per questo dato. Corretto? Esatto. Prendiamo la borsa. Chiave inserita. C'è anche le manigliette. Sì sarà comoda. Bisogna sempre verificare che il lucchetto sia aperto e non chiuso. Così è chiuso e così è aperto. Bisogna prendere tre punti. Ecco qua. Una volta presi i tre punti precisi questa non viene più via. Wow. Beh. Alla fin fine. Mi piacciono le borse. Beh sono proprio belle esteticamente. Comunque ci stanno tantissimo. Guardo da dietro la telecamera. Vediamo un attimino. Cioè. Sono proprio belle. Sì. Sì. Possiamo fare l'operazione anche dall'altra parte ma prima di montare l'altra borsa vediamo un attimino dentro com'è. Andiamo ad aprire. Beh c'è anche gli elastici come le valigie quindi che terranno tutto e dentro abbiamo anche il sacchetto per impermeabilizzare le valigie. Beh spazio non mancherà dai. Cosa dici? Aspetta questo è il... Ah quindi questo è l'interno sfoderabile. Sfoderabile. Lavabile. Se sporcheremo queste splendide borse le potremo anche lavare. Quindi per le maniache del pulito come me. Borse sfoderabili, lavabili e quindi sempre tutto in ordine. Beh direi che siamo pronti per la vacanza. E proprio perché andremo in vacanza registreremo un video dove andremo. Ah questo non lo sveliamo. Questo non lo sveliamo. Seguiteci su Instagram e lo scoprirete. Adesso finiamo di montare l'altra borsa e vediamo come sta lei sopra che sono molto curioso. Tra l'altro, vieni a vedere, hanno fatto del zip con anche la possibilità di metterci il lucchetto. Quindi se mi dimenti quella borsa sopra con un milione di euro dentro c'è il lucchetto. E non sarà per niente facile rubare. Bene, le borse sono montate e adesso facciamo la prova del 9. Anche se non c'è la sede dietro, vediamo un attimino lei come starà. Provo. Cioè qua mi stai chiedendo veramente... Dove metti i piedi? Sono... Ah, non sono abituata. Stavo mettendo i piedi sulla mia pedalina. È un casino montare adesso. No. Tieni su di me, tieni su di me. No, io non mi fido senza sella. Abbracciami e buttati su di me, ti tengo io, non ti preoccupare. Esatto. Vai in piedi, metti il piedino. Così, ok. È molto difficile. Sì. Comunque bene o male, viva gli squat. Bene, metti la mano qua, può essere utile? Sì. Dai. Non è male, pensavo peggio. Salire e scendere è un po' più complicato. E adesso fammi scendere. Vai, scendi. Aspetta. Questa sarà la parte più comica del video, ragazzi. Ok. Bene, se l'abbiamo fatta. Ottimo. Ricordo che KTM dichiara di non superare i 5 kg per borsa. Esatto. 16 litri ognuna. E soprattutto di non superare i 130 di ora e di raggiungerli con una velocità. Senza impennatine, senza sgammatine. Perché stai ridendo, Luca? Perché? Vabbè, ma più di 130, facciamo un giro turistico, non si fa, ragazzi. Ho preso le borse proprio perché andiamo in modalità turistica. Esatto. Quindi sarà un viaggio divertente. E la corsa sarà d'altra parte. Sarà in? Che cosa? Il viaggio in? In? Dove? Con chi? Quando? Lo vedremo nel prossimo video. Ve l'ho detto, dovete seguirci, dovete seguirci. Quindi. Se vi è sembrato facile montare le borse e volete farlo anche voi, comprate una KTM. Scrivete nei commenti se vi è sembrato facile. Qualcosa era semplice, qualcosa era difficile, ma è un po' la paura di far danni. È sempre una moto da 26.000 euro. Girate il telefono, premete iscriviti. Mettete like, condividete, seguiteci su Instagram, seguiteci ovunque e vi porteremo in vacanza con noi. Buon viaggio a noi. Ciao. Ciao. Buon viaggio a noi.